eccoci ben ritrovati su radio make cry l'e3 è finito da poco e quindi siamo qua in compagnia del nostro acu per un rapido recap su quello che abbiamo visto un e3 2018 che sicuramente non sarà di quelli da ricordare perché è stato piuttosto avaro di novità alla fine per l'ennesima volta mi viene da dire ci ritroviamo con dei gameplay e trailer di giochi annunciati da molto tempo che insomma molto belli per carità però un po di amare in bocca c'è perché dalle 3 uno si aspetta sempre quella ventata di novità assoluta che in grado di ribaltare un po tutte le carte in tavola che in questo 2018 diciamo non c'è stata assolutamente ma va detto una cosa contrariamente a quello che si crede oramai si è allungato tantissimo il tempo di sviluppo dei giochi si parla di anni un gioco viene annunciato diciamo in maniera anche un po fittizia viene un po annunciato così nel 2016 nel 2017 se ne parla ancora nel 2018 finalmente esce cioè i giochi si sono allungati tantissimo quindi conseguentemente ciò anche l'e3 è diventato uno spettacolo un po particolare dove i giochi non vengono quasi più annunciati per anni utili se vogliamo o per mesi utili ma vengono posticipati addirittura con late 2018 in questo caso late 2019 terzo quarto del 2019 e via dicendo oramai l'e3 è diventata una vera e propria notte degli oscar dove oramai viene premiato lo spettacolo viene premiato viene premiato l'entertainment viene premiato in assoluto tutto l'aspetto cosmetico della kermess e poi naturalmente i giochi per me questo non è un e3 con dei flop tutti i giochi annunciati anche se erano stati già debitamente proposti ed erano già stati annunciati scusate la ripetizione e tutti questi titoli mi hanno soddisfatto cioè ho visto spizzichi e bottoni il la le diverse conferenze ho saputo che ad esempio square enix è stata molto deludente potrebbe essere tra virgolette il mio flop e 3 la guarderò e poi prossimamente magari farò un altro messaggio audio e mentre invece mi è piaciuta molto quella di microsoft che ci crede ancora che ha veramente secondo me esagerato dal punto di vista anche del contenutistico hanno veramente messo tanta carne al fuoco hanno parlato di nuovi studi di acquisizione pardon nuovi studi acquisiti quindi comprati come ninja theory che comunque se tanto mi da tanto i ninja theory faranno sicuramente un gran gioco ci sono un po rimangiati le mani rispetto al passato che avevano naturalmente chiuso quasi rapporti avevano chiuso lo studio di fable lioned studio avevano chiuso la divisione giapponese insomma vogliono combattere vogliono combattere con poco perché combattono con poco secondo me non riescono veramente ad affrontare una sony che nella conferenza della giornata successiva si è limitata davvero in un palco molto dimesso a strimpellare quattro corde a strimpellare quattro note che conoscono tutti bene i giocatori della sony ovvero quelle di the last of us e genialmente hanno utilizzato l'ambientazione del gioco nella loro presentazione reveal gameplay l'hanno utilizzata anche nella realtà creando questo strana questo strano paradosso video ludico temporale carina l'idea che praticamente all'inizio del trailer ellie balla con la sua amica in una specie di festa che assomiglia tantissimo al setting organizzato dalla sony sul palco e3 è bastato quello è bastato quella quella ambientazione per poi risbatterci nuovo nel grosso palco farci vedere ghost of tsushima su cui riponevo tantissima fiducia e si è dimostrato quello che era c'è un gioco incredibile forse più bello di tutti tra l'altro ho notato che ci sono c'è una sorta di paradosso spazio video ludico in questo prossimo 2019 abbiamo ben tre giochi ovvero nio 2 sekiro e ghost of tsushima che si basano tutti sul giappone feudale chissà quale di questi tre riuscirà a prendersi il pubblico quale di questi tre giochi riuscirà a convincere il naturalmente il pubblico che cerca di ingraziarsi sushima è ambientato naturalmente con un realismo incredibile quindi è basato su eventi storici e reali sekiro è ambientato diciamo nel periodo sengoku quindi c'è di tutto dentro ma ci sono anche yokai mostri e nio 2 è la prosecuzione del primo nio quindi mi immagino ancora più mostri più okai kami divinità di ogni tipo e assortite anche se oggi ho letto la notizia che non ci sarà william quindi mistero detto ciò altre conferenze interessanti sono state anche quella di ubisoft quella di bethesda dove finalmente hanno annunciato il famoso alde scroll io globalmente siccome tanto ci sono coverage in tutta la rete dire di tagliare la testa al toro a dire che anche queste tre ce lo siamo fatti è stato divertente sì ci sono stati giochi incredibili direi di sì perché mi vengono in mente per dire quelli del palco ma anche assassin's creed odyssey ma anche rage 2 anche se bethesda un po sbagliato il timing cioè ha voluto presentare dieci giorni prima rage 2 e magari era meglio se lo teneva per la conferenza e magari presentava il dlc che tra l'altro hanno presentato due dlc di uno di prey mooncrash e l'altro di castle world stein young blood se non ricordo male quindi era meglio se tenevano quei due dlc diciamo per il pre e 3 e avrebbero ippato non poco e tenevano magari rage fallout 66 76 76 credo sì se li avessero tenuti per la conferenza e 3 perché erano due grosse novità vabbè ma questo chi sono io per dire dove hanno sbagliato assolutamente nessuno diciamo che ho apprezzato in generale tutta la conferenza di bethesda anche se è stata un po corporativa della serie siamo sempre i numeri uno siamo sempre i numeri uno grande finale anche con elder scroll 6 se non ricordo male e che dire sul palco microsoft ad esempio mi è venuto in mente ovviamente cyberpunk 2077 che per me è una roba esagerata incredibile se pensare che tutto quello è in real time reale gameplay e reale grafica se vogliamo anche è impressionante impressionante le notizie che continuano a scorrere ogni giorno incessantemente lo fanno sempre più sembrare una roba megalitica un gioco incredibile dove addirittura i giornalisti non ne hanno potuto parlare ma ne hanno potuto scrivere e hanno potuto avere accesso diciamo a potere formulare delle opinioni però non hanno potuto dire esattamente il gioco come fatto perché le notizie vengono tutte quante rilasciate solo dai siti project red a mio avviso bene perché diciamo che quando vanno in mano i giornalisti le notizie diventano un po mistificate in tante occasioni comunque nel complesso un bellissimo e3 anche spider man ma non so ma tantissimi giochi che hanno presentato anche il nuovo di zombie nation world day z credo se non ricordo male hanno presentato un sacco di giochi un sacco di titoli si è un po alzata l'asticella dello sviluppo nel senso dei tempi l'ho già detto inizio messaggio audio quindi bisogna portare un po pazienza un gioco come spider man ce lo portiamo avanti oramai da due anni e quindi anche diversi meme stanno un po a significare su questa cosa della serie sì però questo death stranding anche incredibile incredibile death stranding tra l'altro quest'idea di essere fondamentalmente un portantino di essere fondamentalmente un ometto della fudora diciamo di questo futuro quindi non sei un soldato non sei ma sei una persona normale è bellissimo bellissima l'idea quindi tantissimo hype tantissimo coinvolgimento per quanto mi riguarda tutti i titoli mi interessano veramente tanti spenderò una barca di soldi nel 2019 e anche il remake di resident evil 2 assolutamente lo prenderò perché è spettacolare è davvero incredibile pensare che capcom ha fatto una cosa del genere e che altro dire c'è solo da rimanere soddisfatto c'è da aspettare un po di più però ragazzi che giochi aggiungo anche una considerazione volante sulla conferenza di nintendo visto che non è menzionata e visto che anche l'unica che ha avuto la possibilità di guardare in diretta conferenza che in realtà è anche una parola sbagliata perché come ben sapete ormai da qualche anno che nintendo non partecipa più con il classico show alle 3 ma affida gli annunci al direct che è una formula che viene utilizzata più volte durante l'anno però sai il direct di giugno il direct e 3 è quello dal quale più atteso perché quello dal quale ci si aspettano più novità e quest'anno di novità ce ne sono state veramente pochine bene per il gameplay del nuovo pokemon che ricordo essere uno spin off il pokemon della serie principale uscirà il prossimo anno e sarà un titolo diverso bene perché insomma dalle prime notizie sembrava un gioco piuttosto casual invece vedendolo in azione ma ma secondo me non è male potrebbe comunque diventare un gioco interessante ricordo che una delle grandi novità è quella che non si affronteranno più i pokemon selvaggi lottando ma semplicemente lanciando le ble pokeball e fra l'altro saranno anche visibili questi pokemon quindi non ci troveremo più di fronte a scontri casuali bisognerà un pochino vedere il tutto sembra che comunque la difficoltà sia ancora di più tarata verso il basso questo mi preoccupa un po però l'idea sinceramente di non andare in combattimento con i pokemon selvaggi e poterli vedere non mi dispiace non mi dispiace l'impostazione tecnica resta quella un po da 3ds sicuramente migliorato da un punto di vista estetico comunque resta sempre un po quella un po la mare in bocca perché insomma tutti appassionati di pokemon si aspettano da tempo lo sbarco di questo brand su una console potente come può essere switch con un world gigantesco e tutto quanto però quello sono desideri che relegheremo per il prossimo ufficiale capitolo che uscirà nel 2019 anche in questo caso parliamo di annunci di giochi non visti che poi rivedremo fra uno barra due anni molto bene per demo next macchina gioco con i robottoni che non mi aspettavo un gioco action shooter con dei robottoni che sicuramente sembra molto interessante con colori molto vivi quindi questa sarà un po la sorpresa in attesa di questo e tre bene per fare emblem che era già stato annunciato finalmente vediamo qualcosina sembra sempre il classico gameplay alla fire emblem insomma un punto fermo che fa ben comunque sperare il resto è stato tutto un direct incentrato sul nuovo smash e onestamente mi ha preso un po per sfinimento perché su una trentina di minuti di direct 22 23 credo siano stati dedicati soltanto a smash che sembra veramente essere lo smash definitivo con nello tutti i personaggi di tutti i capitoli quindi per carità gioco che sembra veramente confezionato alla perfezione però a una certa insomma mi aspettavo qualcosina in più che non c'è stato quindi anche in questo caso poche novità un po da mare in bocca non sappiamo ancora non abbiamo visto niente su baionetta 3 non abbiamo visto niente del nuovo metroid prime 4 due titoli annunciati lì con il loghetto e stop e non sappiamo neanche ancora che cosa stanno facendo i retro studios studio di lustro di nintendo americano quindi anche lì non sappiamo cosa stanno facendo sicuramente fa ben sperare per i direct futuri però insomma questo poca roba ecco ecco se proprio uno vuole tirare un dato da questo direct è che non è stato mostrato niente del 3ds quindi chissà se veramente hanno deciso di mandare in pensione definitivamente questa console personalmente non credo che sarà così penso ancora un pochino potrà andare avanti soprattutto in giappone e quindi mi aspetto che in futuro qua anche qualche altro piccolo annuncio su questa console che comunque continua in qualche modo a restare in vita continua ad avere una sua fan base ribadisco soprattutto in giappone che altro dire personalmente è stato un e3 sic ha mostrato dei bei giochi ma mi aspetto come sempre delle novità perché un po con la visione delle tre del passato che rivoltava un po tutto come un calzino quindi non sono particolarmente soddisfatto da queste tre anche se condivido con acco che i giochi mostrati sono veramente molto allettanti nel 2019 si presenta con un anno nel quale bisognerà andare a accendere dei mutui in banca perché di giochi da comprare ce ne sono veramente tanti finisce qua questo rapido recap sulle tre 2018 mi raccomando commentate fateci sapere se siete rimasti delusi o soddisfatti da queste tre quali sono i giochi che più vi hanno convinto quelli che meno vi hanno convinto e soprattutto continuate a seguirci su facebook twitter instagram youtube mix cloud dove potete ascoltare tutti in le nostre puntate di radio audio e soprattutto sul blog www.gamermakerai.blogspot.it un saluto da capitano brobrega ciao acco alla prossima ragazzi